Pace di Cristo, amata Chiesa del Signore di Torino, Milano e Marsala. Condividevo questa testimonianza, questa esperienza che condividerò con voi, con il pastore, e il pastore era molto colpito e mi ha chiesto di condividerlo, di condividerlo con la Chiesa del Signore. E vorrei iniziare dicendo che, come avevo inviato il messaggio al gruppo delle sorelle, condividendo il fatto che quando uno si sveglia presto al mattino e loda al Signore, prega, ascolta parola e specificamente condividevo il fatto che mi ero svegliata presto e avevo messo il programma del nostro pastore alle sei e mentre preparavo la colazione, condividevo appunto con le sorelle che quando uno fa questo, la disposizione della giornata è diversa, come si ci sente durante la giornata è diversa, e le aspettative sono diverse, la sensibilità spirituale cambia. E appunto quella mattina iniziai il giorno così ed è stato bellissimo, mi ha donato molta pace, molta gioia e molta direzione. Ho chiesto al Signore molto discernimento e prudenza soprattutto al parlare in ogni incontro con le persone, ad essere più pronta ad ascoltare e non affrettarmi magari ad aprirmi in un modo rapido o diciamo, non so come spiegarlo, comunque il punto è che ho sentito la differenza, ho visto la differenza in me in quella giornata. e pregavo e dicevo Signore, perché dopodiché che sono uscita di casa quella mattina, ho portato la nostra nipote a scuola, al ritorno andai per fare la mia camminata di tutti i giorni, di tutte le mattine durante il periodo che sono qui a Malta e in tutto il cammino andando e venendo lo davo al Signore, pregavo e gli dicevo Signore fammi conoscere, fammi conoscere il forte diciamo di questa città, una persona di influenza, una persona che abbia potere economico, potere di influenza dove attraverso questa persona possa provvedere tutto ciò che ci sia di bisogno per la Chiesa che tu hai e che formerai e inalzerai qui in questa città e che possa convertirsi per poi tante persone che lui o lei ha di influenza possa influenzare a tutte quelle persone per te Signore e permettici di guadagnare questa persona, questa famiglia a te Signore per la tua gloria e sentivo pregare così, veramente mai avevo pregato così e vi incoraggio sorelle ovunque voi vi trovate, nella città dove vi trovate dobbiamo pregare per le persone di influenza in tutti i sensi della città dove ci troviamo e per poter guadagnarli a Cristo e attraverso loro poter guadagnare tante altre persone e poter provvedere per tutto ciò che c'è di bisogno per portare avanti il messaggio di salvezza nel Regno di Dio e pregavo così, pregavo così e durante la giornata ho avuto vari incontri ma mi concentrerò solo in due incontri specifici che mi hanno colpito e anche hanno colpito al pastore perché veramente sappiamo che nulla è coincidenza e vi racconto che nei primi due viaggi oggi io avevo conosciuto tre bambini che vanno alla scuola della nostra nipote che erano abbastanza particolari nel loro modo di aprirsi e si sono molto attaccati diciamo a me e alla nostra nipotina sin dal primo giorno che ci hanno visto e quando vedevano la mia copertura una di loro diceva che bella, che bella il tuo cappellino diceva così no e subito ci voleva invitare a casa così la nostra nipotina poteva andare a giocare con loro e loro stessi mi hanno detto che erano ebrei, che erano giudei e così dopodiché riconoscendo i bambini li ho visti varie volte non più da soli con altre due ragazze che li portavano a scuola e li andavano a prendere ma li vedevo nei primi due viaggi le volte che li vedevo li vedevo con la mamma e col papà il papà si vede ebreo con la barba e il cappello invece la mamma va più sportiva con i suoi pantaloni diciamo capelli corti non ha l'apparenza diciamo di una giudea ortodoxa come il marito però io già sapevo chi erano loro perché conoscendo i bambini sapevo che si trattava della mamma e del papà e che loro erano giudei perché erano ebrei e allora cosa succede? che con loro non c'era mai stato un incontro in questo terzo viaggio oggi è stato curioso perché lei è come che il Signore ha messo favore in me per lei e lei si è avvicinata a me mentre aspettavamo i bambini che uscissero dalla scuola lei stessa si avvicina a me e mi guarda con un sorriso e non sapeva come farmi la domanda dopodiché lei mi dice ma lei non lo so è religiosa mi dice così ha a che vedere con una religione è religiosa allora io le dico si potrebbe dire di sì per come mi può vedere il mondo ma in realtà non seguo una religione seguo la mia fede in Cristo Gesù credendo che il Messia che tanto è stato profetizzato nel Vico Testamento è venuto nel Cristo ci ha fatto conoscere il suo nome per salvezza e questa è la fede che noi seguiamo e allora lei diceva sì perché lei ha l'apparenza molto ortodossa voleva dire no un'apparenza consacrata un'apparenza diciamo che si vedeva no che era un'apparenza di fede allora mi continua a dire dice allora siete evangelisti ah perché io le dicevo noi siamo cristiani non cattolici e allora le dice siete evangelisti allora le dico sì si potrebbe dire di sì però soltanto che nell'evangelismo ci sono una grande varietà di credo sempre ovviamente il centro è Cristo Gesù però con delle varie azioni noi particolarmente non siamo trinitari noi crediamo in un solo Dio nel Shema nel Shema di un solo Dio allora lì tipo quando ho detto il Shema no si vedeva che qualcosa aveva colpito il suo spirito e e allora lei mi osservava era diciamo un po' però sempre con un sorriso sempre aperta a voler parlare allora dopo un po' mi dice sai i genitori di mio marito i miei suoceri abitano negli Stati Uniti e loro sono sono come voi loro sono come voi loro sono evangelici sono come voi allora io dico ah sì e che parte degli Stati Uniti allora mi dice Florida e dico wow noi ci siamo appunto convertiti in Florida abbiamo vissuto lì 16 anni e abbiamo moltissimi amici fratelli nella fede non solo in Florida in Washington ma in tutti gli Stati Uniti e non solo anche in Italia in tutto il mondo c'è la Chiesa del Signore con la stessa fede che noi seguiamo e allora lei era colpita che noi avevamo vissuto in Florida e che i suoi suoceri essendo evangelisti come noi evangelici come noi abitano in Florida allora lì per lì già era ora di andare via perché i suoi bambini erano usciti della classe allora io lì gli ho dato un bigliettino gli ho detto guardi se vuole gli dia questo sito ai suoi suoceri e così sapendo che noi siamo siamo stati in Florida e che comunque abbiamo la stessa fede le dica che vadano sul sito e ci contattino e così è finita lì e finalmente c'è stato questo incontro che non l'ho provocato io è stato veramente il Signore io avevo veramente curiosità di conoscerla ed un giorno chiederle chiederle del perché lei non diciamo suo marito si vedeva diciamo ortodosso ma lei lei no e il Signore ha fatto questo incontro è stata lei ad avvicinarsi è stata lei a farmi delle domande è stato incredibile veramente come il Signore l'ha fatto e adesso avrò opportunità perché lei va al parco normalmente alcune mamme quasi sempre le stesse vanno al parco che si trova sotto la collina dopo uscire dalla scuola i bambini si incontrano lì e siccome escono le due tra le due e le due e mezza perché dipende l'età più i più piccoli escono iniziano a uscire prima verso le due e poi mano a mano che vanno con più età vanno uscendo fino ad arrivare alle due e mezza che è l'ultimo gruppo che esce e allora normalmente le persone vanno a quel parco fino alle quattro poi alle quattro inizia il frescolino e tutti a casa verso le quattro iniziano si inizia a partire massimo quattro e mezza e allora io appunto dopo questo incontro l'ho vista che era nel parco che parlava con qualcuno ma a questo punto io già non mi sono avvicinata neanche lei perché ho avuto un secondo incontro ma prima anche di arrivare al parco dopo che ho salutato questa signora che ho parlato con lei dopo un po' che stiamo scendendo la collina ho questo secondo incontro molto interessante con una donna giovane cecoslovaca parla inglese però ha un accento per cui non è tanto facile capire il suo inglese però si capisce e questa ragazza ha quattro figli e che va dai sei mesi poi continua l'altro un anno e mezzo o due anni poi un'altra avrà quattro cinque sei anni non lo so fino alla più grande che che è come la nostra nipotina va anzi alla stessa classe di lei allora quattro figli e abbiamo iniziato tutto il percorso verso il parco a parlare a condividere e si parlava del più del meno lei ha qui con la sua famiglia da settembre infatti è partita dalla Spagna dove è stata un anno è partita che aveva sei mesi incinta poi ovviamente è arrivata qui e ha avuto il bambino adesso il bambino è partita sei mesi a settembre non lo so ho fatto i calcoli io sinceramente non gli ho fatto i calcoli comunque il bambino è piccolo non cammina ancora e abbiamo parlato un ben più o meno due ore due ore e mezza e da lontano vedevo l'altra giudea che era di là che lei mi guardava con molta ammirazione o curiosità non saprei dire però siccome io ero con quest'altra ragazza non abbiamo continuato a parlare io segui con questa ragazza fino al parco e abbiamo parlato del più e del meno parlando parlando lei è sposata sorelle fratelli è sposata con un venezuelano con un venezuelano che ha vissuto a Kentucky negli Stati Uniti per cui parla inglese e parla lo spagnolo e lui è non ho capito bene quello che lei mi ha detto ma un tipo di distributore o un qualcosa del genere della birra della birra o delle birre qui a Malta o non so se la città specificamente Marsa Scala comunque è un distributore di birre e e niente lei è a casa con i quattro bambini con molta voglia diciamo di anche aiutare il marito in qualche lavoro dove non interrompa diciamo la sua il suo lavoro come mamma ecco e come come moglie è un qualcosa magari su internet a casa e lei parlava un po' parlavamo un po' di questo un po' di tante cose no? la nostra testimonianza di come no? la nostra fede parlavo che avevamo fatto tanti matrimoni e che avevamo tantissimi bimbi che molti matrimoni come lei giovani hanno tre quattro figli e lei era sorpresa no? era scioccata di sentire tutte queste testimonianze alla fine dopo due ore e mezza che già sapevamo che il marito era venezuelano che parlava inglese perché avevano vissuto anche in Stati Uniti e praticamente senza diciamo volere perché non sono andata direttamente diciamo al messaggio ma è stata un'amministrazione molto diversa e alla fine abbiamo finito sempre nel messaggio ma in un modo diverso e perché lei parlava non mi ricordo come siamo arrivate lì il punto è che alla fine ho dato il messaggio di salvezza ed è stato bellissimo lei è rimasta c'è rimasta e e le parlavo no? della differenza di cosa voleva dire no? avere una relazione col Signore e il perché no? e come il peccato ci separava dal Signore da Adamo e Eva il battesimo le parlavo del battesimo poi parlando delle diverse diciamo credo no? delle persone lei ha nominato non so come o come l'ha conosciuto o se è investigato il punto che mi ha nominato questo fatto del Scientology e di Tom Cruise e tutto quanto e allora niente parlevamo si si condivideva ed è stato bellissimo perché lei non si sentiva diciamo invadente che la invadivo ma era una conversazione molto diciamo un livello dove lei si sentiva molto comoda ma la stessa volta la faceva meditare su quello che veramente il Signore le stava parlando e il Signore mi ha dato parola per lei è veramente stato un bellissimo un bellissimo incontro due ore e mezza sono passate in frettissima e le bambine intanto hanno fatto i compiti insieme hanno giocato hanno gioito insieme e tante cose e alla fine la bambina ci stava invitando a casa loro ma le abbiamo spiegato che comunque in un'altra opportunità quando ci fosse mia figlia che avrebbe conosciuto sicuramente la loro mamma sicuramente avrebbero si sarebbero messi d'accordo un giorno per poter passare insieme un pomeriggio anzi lei mi aveva invitato e mi aveva detto che sarebbe bello se facciamo tipo una grigliata dove possiamo essere insieme con suo marito con lei io le ho detto che mi piacerebbe aspettare che venisse mio marito che comunque gli farà tanto piacere conoscere un qualcuno dal Venezuela e poi potremo fare anche una bella riunione un bel incontro e condividere e sorelle fratelli io non so se queste persone sono la risposta alla mia preghiera o hanno qualche connessione con ciò che ho chiesto o non lo so non ho idea se non ha niente a che vedere con quello ma con il fatto della loro anima io non ve lo so dire ciò che vi posso dire è che questi due incontri sono stati due incontri potenti due incontri dove veramente non c'è coincidenza il fatto che tutte e due sono legati in un modo in un altro con gli Stati Uniti uno che è venezuelano l'altro che è evangelico praticamente con figli ebrei perché ovviamente se i figli sono così è perché i genitori sono erano ebrei adesso non so se sono messianici non so se non ho non ho idea fratelli non ho idea e comunque a tutte e due ho dato il bigliettino a tutte e due ho parlato un po' della nostra fede ovviamente all'ebrea non ho avuto il chance di dare messaggio o niente del genere semplicemente ho detto ciò che credevamo che credevamo in un Dio credevamo che quel Dio che era stato profetizzato che sarebbe venuto come il Messia è venuto in Gesù Cristo come Gesù Cristo e più di quello a lei non ho condiviso però so che avremo modo di continuare a condividere sto avendo degli incontri molto particolari ma questi due di oggi veramente ci hanno colpito a me al pastore e penso che ci sarà un frutto fratelli ci sarà un frutto non so cosa sta facendo il Signore né come lo farà io intanto mi sto godendo ogni secondo di questi giorni nel Signore veramente rilassandomi nel Signore pregandolo dando parlando del Signore che è la cosa che più mi piace poter essere sentirmi utile sentirmi veramente condividere il il messaggio ministrare le anime vedere le vite cambiate e questo per me a me mi dà tanta gioia e mi riempie il cuore e ovviamente il nostro pastore mi manca e vorrei molto che lui venisse con me nei prossimi viaggi perché so che il Signore farà tante cose bellissime continuate a pregare per la nostra figlia fratelli la nostra nipote sta crescendo nel nome del Signore e non vedo il momento che ci sia la Chiesa del Signore perché lei possa gioire allodare imparare lei non vede il momento di venire a Torino stare con i fratellini andare in chiesa perché ovviamente lei sin da piccola ha questo nel suo cuore e ogni volta che noi veniamo è come un ranforzo per lei poi per la nostra figlia il Signore saprà cosa cosa dovrà fare nel suo cuore intanto gloria a Dio il Signore veramente vedo la mano del Signore la sua grazia la sua misericordia che non gli fa mancare niente anzi vedo la sua mano in tutto e vedo anche che sta facendo sta lavorando sta lavorando in lei sta lavorando in noi ringrazio il Signore veramente per il vostro appoggio per le vostre preghiere sorelle fratelli e pregate fratelli digiunate pregate perché il Signore vi può dare una parola per Malta vi può dare una parola per noi per la nostra famiglia per qualche anima qui se si è sensibile allo spirito del Signore il Signore vi può dare una parola specifica che potete condividere col nostro pastore e questo è importantissimo fratelli perché noi abbiamo un Dio vivo un Dio che parla un Dio che ascolta grazie fratelli spero che queste testimonianze siano di direzione anche per voi e di proposito per la preghiera e che sia stato anche di gioia e di edificazione per la vostra vita il Signore vi continui a benedire nel nome di Gesù pace di Cristo